L'intelletto umano è come le piume di pavone, solo uno stravagante sfoggio per attirare una compagna. L'arte, la letteratura, Mozart, William Shakespeare, Michelangelo e l'Empire State Building, un elaborato rituale di accoppiamento. Magliari non importa che abbiamo realizzato così tanto per le più basse ragioni. Mai noto, il pavone può a stento volare, vive nel fango, beccando insetti dalla melma, consolandosi con la sua grande bellezza. E sono giunto a pensare a così tanta coscienza come a un carico, un peso e li abbiamo risparmiati. Ansietà, autolesionismo, colpa. Gli residenti sono gli unici liberi. Liberi, qui, sotto il mio controllo.